Le principali novità della collezione è un po' riprendere la nostra tradizione, che è mixare molto i materiali. Noi usiamo il cashmere dalle migliori qualità che noi selezioniamo. Per la collezione autunno-inverno 2019-2020 presentiamo come sempre filati di eccellenza, dai cashmere uniti alla seta al merino Sextrafae uniti al cashmere e comunque con un alto valore aggiunto sul prodotto materia prima. Le mie creazioni sono creazioni che fanno riferimento a una donna contemporanea, una donna che non ha più paura di essere femminile, che piace il taglio sartoriale, il vero taglio del Made in Italy, che fa riferimento agli anni 50, ma super contemporaneizzato. Osare ma con stile, il motto di Giorgio Magnani per l'inverno 2020. In passarella un nuovo stile urban chic ed anche eco-friendly. Per noi questa è una sfilata enormemente importante, 1200 compratori, è il Made in Italy in passarella, il Made in Italy di pellicceria, tutta la filiera produttiva, a partire dalle concerie, alle lavorazioni artigianali, al design. In Italia c'è tutto e per noi è importantissimo. Fagafers is all about sustainable luxury, fashion and craftsmanship. And tonight is all about modern interpretation of all of that. And what better place to come and do that than the epitome of fashion and style, Italy.